Salve a tutti, benvenuti nel nuovo video di Calcio Mercato, finalmente è l'ultimo video di Calcio Mercato Calcio Mercato finito da poche ore, possiamo dire così Tante sorprese nell'ultima ora di Calcio Mercato L'ho vista in diretta, anche se forse potevo aspettare qualcosa in più, qualche novità all'ultimo last minute Ma non è stata così, però alcune squadre veramente si sono rinforzate, veramente che avevano tanto bisogno Ripeto, l'ultimo video, non ce lo facevo più a portare ogni tanto questi video di Calcio Mercato E poi alla fine erano tutte bufale, nessuna notizia vera, però per fortuna Le ultime video che ho portato, che vedete il link sotto, sono notizie vere e confermate Adesso vi parlerò di ultimi acquisti avvenuti ieri e anche all'ultima ora di Calcio Mercato Partiamo in ordine della classifica di Serie A in nome alfabetico Partiamo con l'Atalanta che gli acquisti non ha concluso più nessuno, ha fatto quelli che teneva L'ultimo che la cessione doveva essere Traoré che doveva passare dall'Atalanta al Parma Però l'Atalanta ha bloccato tutto e come se potrebbe andare a Manchester United per circa 30 milioni Il primo giocatore del 2002, grande investimento per l'United, grande plusvalenza dell'Atalanta Secondo andiamo col Benevento, l'ultimo acquisto è stato Iago Falke Cessione non ci sono state, però bel acquisto di Iago Falke per l'attacco Si sta muovendo molto bene e mi sta piacendo anche come sta giocando il Benevento in campionato Mi rivedo, sono tantissime notizie, cercherò di parlare un po' più veloce possibile Perché se no mi prolungo per troppo e arriviamo a circa 20 minuti di video e nessuno se li vede Andiamo con la terza squadra che è il Cagliari Ultimo acquisto è stato Unas da Napoli Bel colpo, vediamo dove lo metterà, se giocherà sulla fascia o lo metterà intorno alle due punte Dietro alle due punte Andiamo con il Clotone, la nuova promossa, si è mossa molto bene questa squadra Ha fatto le ultime due partite non tanto belle, forse tre se non sbaglio E ha dovuto rinforzarsi e ha fatto Silicardi in attacco e Luperto da Napoli e Gigi da Torino Ottimi acquisti in difesa, sempre in prestito se non sbaglio Ottimo acquisti in difesa doveva rinforzare quella difesa che ha fatto un tantino maluccio nelle prime partite Passiamo con la Fiorentina, è quella che se appare il mio insieme al Parma e all'Udinese si sono mosse in una maniera molto bella La Fiorentina ha accenduto a chiesa alla Juve dopo tanto tempo che già si sapeva dove andare alla Juve Doveva solo aspettare un po' di tempo e l'ha rimpiazzato con Caglie Con Caglie Con ha detto che sono molto felice Volevo in Italia perché volevo rimanere in Italia, sperava secondo me nel Napoli anche lui Però niente da fare, però se l'ha preso la Fiorentina sarebbe un grandissimo colpo Secondo me potrebbe sostituire a chiesa molto, molto, potrebbe sostituire chiesa molto Potrebbe essere veramente l'acquisto azzeccato su quella fascia Caglie Con Insieme anche a Ribéry farebbero una coppia eccezionale Poi ha preso Barrega a terzino e poi ha concluso con Martinez difensore dell'Argentina Dell'Argentina ha preso, penso in prestito sempre, però bella acquista anche di prospettiva Andiamo col Genoa che ha fatto anche un bel mercato, si è mosso bene, ha rinforzato molti reparti Un altro reparti che è stato in difesa è La Porta Dopo aver saputo che Perin ha preso il Covid, Marchetti ha preso anche lui il Covid Ha puntato su Paleari, grande prospetto, no prospetto perché poi giustamente per una certa età Avellate nel 26-27 anni, per me è stato un ottimo acquisto anche per La Porta Perché ha dato molta sicurezza ai palli della cittadella E Bani per Bologna preso come difensore aggiuntivo Poi andiamo col Verona, acquisto secondo me che mi hanno parlato di tutti quanti di superacquisto Non vedo chissà che Calinici al Verona, però dicono superacquisto Contento per il Verona, preso Calinici come punta e Ceccherini come difensore Ma ieri si è parlato per circa due ore solo di Calinici, acquisto top del Verona Non vedo chissà che, può essere anche che mi può smentire Calinici a fa 20 gol, però non lo so La Juve ha acquistato solo Chiesa e ha fatto tutte le cessioni come De Sciglia a Leone Douglas Costa al Bayern Monaco al ritorno e Rugani a Rennes Doveva fare molta cassa, però molti di questi sono tutti in prestito Secondo me cassa non ha fatta tantissima, ha spesa anche dei soldi per Chiesa Con tanti clausere, Nash Costa e così Passiamo col Milan, si è mosso molto solo sui giovani Tra cui Pobby, Dalladino, Mozzagabria Dalot dallo United in prestito terzino destro perché lo United ha detto No, io ci credo in questo giocatore e te lo do solo in prestito Così ha fatto, poi appunto ad altri due della primavera che non mi sono segnati nomi Come cessione ha fatto l'Axalt, Alcetic e il Paqueta a Leone Paqueta, l'ho detto già in uno scorso video, non è che ha mantenuto i suoi standard Perché l'avevano portato come un crack brasiliano Doveva essere il nuovo, non Neymar che è troppo Però doveva essere a quei livelli, doveva essere un po' più sotto di Neymar Molto più sotto, è stata ancora di sotto Meteora Gabigol, quasi peggio potrebbe essere, stiamo là Poi parliamo col mio Napoli, il Napoli si è mosso benissimo con le cessioni L'ultimo acquisto è stato Bakarionko, grandissimo mastino del centrocampo Per me ottimo acquisto insieme a Osiman Il Napoli ha mantenuto un livello alto di calcio mercato Un voto bel alto, per me si potrebbe mettere anche un bel 7 per Napoli quello che ha fatto E le cessioni ha mantenuto tutte le sportive, tranne Milik e Llorente Llorente si parlava dell'ultima giornata della Sampdoria Ma non si è fatto niente, anche se Mola, secondo me se ho capito bene Forse manca un attaccante, perché ha venduto e non ha fatto cassa Cioè non ha riuscito a incrementare una punta in più Poi doveva andare al Tietico Bilbao, ma il mercato si è chiuso anche là E non ha potuto fare più niente Cioè Napoli è rimasto coiorente in panchina e Milik in tribuna Per quello che abbiamo saputo, che Milik ha rifiutato tre offerte Perché sapeva che al 99% voleva andare alla Juve Lui aveva messo in testo questo ragionamento Io me ne vado alla Juve, saluta a tutti quanti i napoletani Invece Mola ha preso in quel posto anche a Milik E' rimasto fino a gennaio e rimarrà in tribuna Finché non scade il contratto e Napoli lo caccia Ma della Venze non farà così Chiederà un bel... Eh, capitami con il gesto Poi parliamo del Parma Si è rinforzata insieme a, ripeto, Udinese e la Fiorentina In maniera molto espotenziale Ripeto, ha fatto circa 10 acquisti il Parma Perché è un nuovo presidente Ho cercato di cambiare tutta la squadra Ho comparato Osorio, difensore del Porto Busi, sempre difensore dallo Charlois Club Belga Poi Cyprien, centrocampista del Nizza E poi Caviglia della Juve Cyprien mi piace tantissimo Caviglia è giovane e potrebbe ancora dare molto piacere nel gioco E Osorio sono due difensori E Busi sono due difensori che non li ho visti giocare Forse Osorio ogni tanto, forse quel campionato portoghese Ho visto ma non tanto Però Cyprien mi piace tanto E al Parma bisogna cambiare qualcosa Passiamo con la Roma La Roma dopo è durato circa 4 mesi forse Da quando inizia il calciomercato Che vuole Smalling Prima no, poi sì, poi no Poi è arrivata la conferma Ok, è fatto Poi no, l'Inter lo voleva lui Il Milan lo voleva lui La Juve lo voleva lui O Beneleno voleva lui Alla fine ha spunturato a 15-17 milioni Ha preso Smalling all'ultimo euro di mercato Ha preso solo lui E poi Borca Majorale Che è stato qualche giorno prima L'ultimo acquisto in attacco Che almeno ha sostituto Non dico valido come Zeko Perché Zeko non lo trovi un altro come lui Però diverso dalle sue caratteristiche Cessioni che ha fatto Olsen Se ne è stata l'ultima All'Everton di Ancelotti In prestito Perché Ancelotti vuole un secondo quartiere in più Perché non ce ne ha E un'altra sessione Perotti al Fenerbahce E Clivert a Leccia Ma Clivert non ho capito perché Si è andato in prestito Poi scelta l'ora doveva entrare Sharawi Ma non si è fatta niente Per le ultime euro di calciomercato Perché dalla Cina Non riuscivono ad arrivare giusto in tempo Le ultime conferme della chiusura di mercato Passiamo alle ultime quattro squadre Alcune Forse non l'avete riuscito a sentire Alcune squadre Perché non hanno fatto niente E ho detto Lo lasciate là Per esempio Se non sbaglio Il No Forse qualche squadra L'ho saltata Sì perché Non si sono mossi tantissimo L'ho detto Non hanno fatto di sa che Rimaniamo così Andiamo con la Sampdoria Vi ripeto Ha fatto la ultima Bendita Con Bonazzoli in attacco Sperando di puntare a Llorente Ma non è stato così Secondo me Ha un voto in attacco Secondo me Se riescono a mantenere così E' buono Se no a gennaio Subito Una punta Subito Perché così non possono fare nulla Tengono solo Guagliarella Se non sbaglio Come punta Guagliarella Solo lui E' pesante Poi hanno fatto l'acquisto L'Ecita In porta Come sostituto Del portiere Audero Andresilva Centro una pista Dell'Exter Anche un bel giocatore Portoghese Se non sbaglio E pochè i Tabald Che lo sappiamo da un paio di giorni Solo che Lo metto di nuovo Perché lui L'ultima conferma E' arrivata adesso Il Sassuolo Si è mosso solo Con Maxi Lopez Del Marsiglia Giovane anche lui Bel centrocampista Ma La vedo dura Metterlo titolare Con quel centrocampo Che amo il Sassuolo Passiamo col Torino Ripeto Il Torino ha preso Bonazzoli Dalla Sampdoria Mo Se la giocheranno Belotti Zazza e Bonazzoli Vediamo chi la spunterà Molto probabile Bonazzoli Belotti Li vedo bene assieme E poi Goyac Giocatore della Dinamo Zagabria Ultima squadra Che è l'Udinese Che ripeto Si è mossa tantissimo Su questo mercato Infatti Lo doveva fare Perché era ultima In classifica Non è riuscito a fare Ancora niente di buono Ha fatto Makenko Un giocatore Attaccante De Nizza E poi Triplo colpo Dal Watford Che voi lo sapete Penso che Watford e Granata Sono società Di Pozzo Dell'Udinese Cioè È una gira Gira Sono sempre La stessa squadra Vediamo E ha fatto Delufeo Pussetto E Pereira Per me Questi due acquisti Sono fondamentali Sono stati Grandissimi Da nove Questi due colpi Per era Delufeo Anche se Solo Delufeo Lo fanno Su quella fascia Dico la verità Per me È un grandissimo acquisto Poi ci sta Pussetto Che è un ritorno All'Udinese Che non ha fatto Tanto bene In Inghilterra Però Potrebbe dare Sempre con la mano Sei o meno In cui Sei gol Li può fare Tranquilamente E poi Pereira Bell'acquisto Che il ritorno In Serie A Dopo Udinese E la Juve Le notizie Sono finite qua Finito il calciomercato Se ne parlerà A gennaio Speriamo che Ci possiamo godere Un bel campionato Non ci sono Problematiche Possono influenzare Questo Mondo calcistico Le notizie Sono finite Spero che Avete fatto un po' Di mente Locale Anche chi Vede per il fantacalcio Così vi do una mano in più E noi ci vediamo Un prossimo video Però A gennaio Che uscirà FIFA 21 E tenetevi pronto Che farò uscire Tantissime novità Perché mi sto cercando Di impegnare A farle uscire Però Dobbiamo aspettare FIFA 21 Che a poco uscirà Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti